Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale, oggi continueremo a giocare a Temedion, dipendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora ecco qua Tu sei... ok. No. Sadness? C'è tu? Sei ok? C'era quella cosa? Ciao? Ciao! Richard? Richard? Non, Sadness. Il chiamato a chiamato Thomas. Chi è Richard? Non è il giorno? Il giorno? Il giorno? Allora... Sì ma qua neanche non posso andare quindi... Non ho niente quindi... Cioè di qua comunque devo andare quindi... Vediamo un po', vediamo, vediamo dove posso andare. Qua c'è uno buscolo. Mia cara, che avevo promesso di venire ma indovina un po' mi hanno promosso. Sì, sul serio, ti presento il nuovo capo del personale. Credo che potrebbe davvero essere un nuovo inizio. Un luogo da chiamare casa. Per noi... Per noi intendo... E... Intendo... Me, te, i ragazzi, so che sembro folle ma pensaci. Tu ho per sempre F. Allora... Vediamo qua un po' come possiamo fare. Allora... Svago al lago. Sì ma non penso che posso andare di nuovo su... Ok. Quindi c'è un altro modo... Penso... Sala recreativa. Il posto più sicuro per i più giovani, Niwa. Ok. Ehm... Ristorante Niwa. Il gusto del popolo. Ok. Questa sala creativa dove cavolo sta? Allora... Reception... Elevator... Ehm... Non... Norma. E questo ho letto prima. Vediamo un po'. No! Mi fa un po' inquietud. Nei porca miseria. Vediamo se è di qua. Questa è la sala creativa. Mi sa. La sala creativa è il posto più sicuro per i giovani. Niwa che è. E qui la stanza. Però mi sa che è chiusa. Vediamo di trovare... Eh... Cosa pareva? Giornate in famiglia. Vacanze in campagna. Ok. Vediamo di qua. Eh... Ehm... Il punto di vista è un po' di vicino. Ehm... 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 Qua è tutto distrutto, andiamo di qua, qua c'è qualcosa, eh, un po' di sangue ovunque No, ti prego, qua si sale, vediamo se c'è qualcosina di utile Non mi sento, questo è un problema, non mi sento, non mi sento, non mi sento, non mi sento Vedete come la tua stagione complica l'ho? Comrade, io... sì dobbiamo andare di qua eh si è l'unica porta aperta quindi allora vediamo qua se troviamo qualcosa di utile ragazzi vediamo se troviamo questo poi lo posso mettere più volte no dietro non so però qua non c'è niente ah ok questo magari non c'è niente non c'è niente non c'è niente quando c'è niente possiamo andare avanti ragazzi non c'è niente non c'è niente sì ma dove sono adesso io faccio qualcosa un vecchio frank frank francis che cosa dovrei fare con te dopo la chiusura del niva mi pregasti di tenerti qui dicevi che il servizio del tempo del tempo per sistemare le cose che avresti potuto essere utile ma ora oppla ma ora so che stai solo usando la stai solo usando come scusa come quelle lettere la famiglia tutto bene signor forse andrò a casa la prossima primavera al mattino a massimo d'estate ok assicurami di non trovarti ubriaco marcio svegliano in mezzo alla neve direi che il minimo che possa fare buon vecchio frank troppo impaurito per vivere troppo destardo per morire a volte mi sento in colpa per ausarti così ma poi mi ricordo che mi serve tutto l'aiuto possibile ok sento un rumore strano è chiusa? è una proprietà quindi io avrei fatto tutto il giro e come facciamo? vediamo se c'è qualcos'altro tipo un un gancetto, qualcosa oh madonna come? no Sì. Well, that's my seven years back, huh? ah ha detto segui la scia ok 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 ho capito male io allora qua c'è qua si può andare vediamo un po hallo? qualcuno? vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' scusate se prima praticamente si sentiva un po' di rumore nell'audio ma me sono accorto adesso quindi la c'è una tronchietta quindi ci vediamo segui la scia per attivare l'intruzione ma qua ci dovrebbe essere qualcosa si ma questo già l'ho comunque l'ho già visto quindi l'ho già visto ecco vediamo un po' 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 No dai cazzo Oh Aspetta un secondo ragazzi Ma che cazzo proprio Allora ragazzi Dobbiamo riprendere dove ci siamo lasciati Abbiamo detto che devo seguire Ah qua mi dice di andare però Dai No Ok qua Qua un giocattolo Allora Cazzo sto Ssshh Here she comes Guys Come on It's dark in here This isn't funny I really don't think we should Shut the heck up Renard Guns Kids can be such assholes sometimes What is it? Do you want to show me something? Sì qua c'è qualcosa What the heck? Oh L'instruzione strappata Trovo un moto per entrare nella sala regalativa Prendi le tronchesi e segui la scia dello spirito Ok Qua che dice? Configurazione di Google Home non ancora eseguita Per iniziare scarica l'app Google Home sul telefono o tablet Scusate ragazzi Però Qua c'è un'altra cosa però Che mi è sfuggito Devo combinare? No Non penso Ok non devo combinare Mi sa che c'è qualche Ah ok M'ho capito Devo andare di nuovo vicino allo specchio E' apposta Buongiorno Di nuovo i dolori ragazzi Vabbè Mi direi che c'è di nuovo la stronza E' la prima volta che ci sia mai avuto Mi toccato la scuola E ho scoperto Per l'altra parte E' la prima volta che ci sia mai avuto Cosa sta succedendo? Non, non, per favore, mamma! Oh, Dio, cosa succede a te? Poi, conosco a te. Te ero questo ragazzo. Bernard, era? Era? Stava scocato là, proprio come io. Cioè, conosco il nome, ma non c'era qualcosa per farlo. Era come una parte di lui che era perduto. Allora, dove andate qua? Sicuramente. Seguiamo, oh, porca puttana. Hey, that's where those bolt cutters are. So close, and yet so in a different reality. Oh, merda! Sembra quasi vero, porca miseria. Dai, 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 che ce la fai? Ok. Ma io andavo, io andate il cuore. Prendiamo un po' di energia? Oh, per uscire, mi sa, no? Sì. Ok. Molto guanti! Molto guanti! Molto guanti! Ma qua non posso andare. Opla! Qua ci ho visto una cosa. Vediamo. Molto guanti. Ma guarda quanti! Cosa tremenda, ragazzi. Ma guarda quanti! Cosa tremenda, ragazzi. Ah, ok. Ok. That cat figurine was the key. I can't pass through without it. Nothing. Shit. Gotta find something to open the way. Allora. Ma di qua non posso può andare, no? Togliamo un po', ragazzi, vediamo. no di qua comunque sono venuto come dice comunque lei c'è qualcosa da fare qua secondo me ecco dove arriva ok l'ho presa devo liberarla l'anima di bennard insomma quindi torniamo indietro adesso scappando vediamo che succede dopo ecco Scusa che hai dovuto passare tutto questo. È il momento per te di trovare pazza. Bernard, grazie a te. Ah, sembra di sembra come quello che ho usato per arrivare all'interno. Mi sembra anche quello. Stai con me. Stai con me. Porca miseria, ragazzi, che paura. Santa pazienza, che paura. Mamma mia. Ah. Um... La mia ragazza, la mia ragazza, la mia ragazza, la mia ragazza. La mia ragazza, la mia ragazza, la mia ragazza. La mia ragazza, la mia ragazza, la mia ragazza. La mia ragazza, la mia ragazza.